Il Tau Alto Passo veste i panni del Corsale e vince sul campo del Poggi Buonzi, espugnando il Fortino Senese con il risultato di 3-1. Partita frizzante fin dalle prime battute, con gli ospiti che si rendono pericolosi con un paio di azioni ben orchestrate. Nei locali si mette in evidenza Bellini, che realizza la rete che accorcia le distanze dopo quelle siglate da Lombardo e Zini. Il 3-1 porta la firma di Meucci. Tutti i gol sono nella ripresa, a testimonianza che c'è stato un po' di studio della partita e poi il Tau è venuto fuori alla distanza con un successo che avvicina adesso i ragazzi di Simone Venturi nella zona dei playoff. Una vittoria che non è stata mai messa in discussione, che testimonia il buon campionato disputato da parte della formazione del Tau, che ancora una volta è riuscita subito ad entrare con la testa giusta in questa contesa. Una vittoria sicuramente pesante perché il Poggi Buonzi è un campo di quelli che ha delle tradizioni. Si libera bene.